Gli ultimi due episodi di questa serie rappresentano il cuore della storia. L'obiettivo di questa trasposizione televisiva si mostra in tutta la sua franchezza e non si prende rischi inutili, perché soprattutto nel secondo episodio viene rimarcato il concetto che la finzione può essere fatta alla perfezione ma non sarà mai forte tanto quanto la realtà. E non vi dico altro per non spoilerarvi. Totti è giunto alla sua ultima partita e il tempo sembra fermarsi proprio come nella narrazione della serie, dal momento che assistiamo ad una forte e brusca frenata discorsiva. Nonostante abbiamo assistito ad una serie breve di solo sei episodi abbiamo l'impressione di aver vissuto con Totti tutta la sua carriera e come lui dobbiamo prepararci al finale dobbiamo essere pronti ad affrontare il punto di non ritorno. Il quinto e il sesto episodio riescono a migliorare anche dal punto di vista della continuità visiva che un po' avevo criticato nei precedenti videocommenti. La commistione tra il girato per la serie e il materiale di repertorio è ottima e non si percepiscono degli sbalzi. Mi sento però di rimarcare quella che secondo me è l'unica grande pecca di questa serie ovvero la colonna sonora che in alcune scene diventa proprio protagonista ma che dal mio punto di vista non è abbastanza incisiva e non è direttamente in simbiosi con il mood della serie. Mi ha fatto molto piacere seguire questa serie e spero che in futuro facciano altri prodotti di questo tipo legati al calcio che è una delle mie grandi passioni e infatti sto aspettando un film Netflix che uscirà quest'anno dedicato al Divin Codino ovvero Roberto Baggio che personalmente e a tutti i bresciani l'ascolto sicuramente ha dato qualcosa di straordinario ad una città, ad una squadra ad una passione calcistica come la nostra. Ci vediamo nella prossima recensione di Monster Movie.